Hai mai sentito parlare di Ernesto Basile? Se sì, saprai che è un nota esponente del modernismo internazionale e dello stile Liberty. Inoltre, lo associerai sicuramente a importanti strutture come il Teatro Massimo, Vellino Flori e Palazzo Montecitorio. Ma lo sapevi che anche alla guadagna abbiamo un edificio costruito proprio da lui? Eh sì, ti trovi proprio al dispensario della guadagna realizzato nel XIX secolo. Questo complesso fu realizzato insieme a tanti altri in occasione dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia del colera del 1882. Al fine di sviluppare un'azione capillare mirata al miglioramento delle condizioni igienico-ambientali della città. Tale emergenza fu talmente rilevante che molteplici strutture, come monasteri e fabbriche, vennero adibiti a sanatori. Il complesso del dispensario era composto da sei edifici divisi in padiglioni maschili e femminili. Ad oggi continua ad essere utilizzato a scopi sanitari ed è parte integrante del corpo dell'ASP.